Per secoli Nettuno ha affascinato scienziati e sognatori con il suo fascino misterioso nascosto dietro un velo di segretezza e passione, ma grazie agli instancabili sforzi nella scoperta scientifica, gli scienziati sono sull'orlo di una straordinaria svolta. Le immagini più chiare mai scattate di questo lontano gigante ghiacciato. Queste immagini offrono uno sguardo nell'atmosfera tempestosa di Nettuno, rivelando una scoperta sorprendente che cambierà per sempre il modo in cui le persone vedono i confini esterni del sistema solare. Cosa si nasconde sotto il velo di nuvole di Nettuno? Quali segreti nascondono le sue profondità ghiacciate? Unitevi a noi mentre sveliamo la scoperta scioccante delle immagini più ravvicinate mai scattate di Nettuno. Nell'agosto del 1977 Voyager Dieu intraprese un viaggio straordinario attraverso il nostro sistema solare, avventurandosi dove nessuna navicella spaziale era mai andata prima. Partì per esplorare le remote regioni del nostro vicinato celeste, segnando un momento notevole nell'esplorazione spaziale. Dopo un viaggio di dodici anni, Voyager Dieu raggiunse Nettuno nel 1989. Avvicinandosi al lontano gigante ghiacciato, catturò immagini mozzafiato che svelarono un mondo maestoso avvolto in bande turbolente di nuvole azzurre. Immaginate di assistere a questo lontano fratello di Giove, adornato con tonalità di blu ipnotizzante. Tra le caratteristiche misteriose di Nettuno, Voyager Dieu rilevò una tempesta colossale che infuriava nella sua atmosfera, somigliando a un'enorme rivolta colorardesia. Inoltre, la navicella spaziale scoprì quattro misteriosi anelli che circondano il pianeta, insieme a sei lune precedentemente sconosciute, aggiungendo al fascino di questo regno distante. Nonostante il suo epico viaggio di 7,1 miliardi di chilometri, l'incontro di Voyager Dieu con Nettuno fu fugace, durando solo poche ore. Tuttavia, questo breve incontro fornì all'umanità, vedute senza precedenti, del lontano gigante ghiacciato, catturando l'essenza della bellezza affascinante di Nettuno. Quando si pensa a Nettuno, molti di noi considerano l'immagine iconica, immortalata da Voyager Dieu. Un ritratto che mostra le imponenti nuvole bianche del pianeta e le sue tempeste turbolente, tutte immerse in una famosa ma errata tonalità di blu. In realtà, il vero colore di Nettuno è una sfumatura più morbida e chiara di blu verdastro. Un dettaglio sottile, spesso trascurato nella grandiosità dell'esplorazione spaziale. Quando si cerca online altre immagini di Nettuno, le persone notano rapidamente la scarsità di foto. Nonostante l'impresa impressionante di Voyager Dieu di volare a una distanza infima di soli 4950 chilometri dalla superficie di Nettuno, il numero di foto disponibili rimane sorprendentemente basso. Cosa rende Nettuno così difficile da catturare in foto? Immaginate che Nettuno si trovi a una distanza sorprendente 30 volte maggiore dal Sole rispetto alla Terra. Questa vasta distanza significa che riceve solo una frazione della luce solare che il nostro pianeta riceve. Di conseguenza, quando Voyager Dieu finalmente raggiunse Nettuno dopo il suo viaggio assistito dalla gravità degli altri pianeti esterni, stava attraversando lo spazio a una velocità sorprendente di 27 chilometri al secondo. Sebbene Nettuno possa sembrare un punto distante nell'universo, il suo fascino risiede nella sua enigmatica tonalità di blu e nella sua atmosfera misteriosa. Ma a catturare questi dettagli affascinanti si è rivelato una sfida per Voyager Dieu. Con Nettuno, che riceve solo un misero 0,1% della luce solare che raggiunge la Terra, la navicella spaziale ha faticato a scattare foto chiare e nitide nella vasta distesa debolmente illuminata. L'ingegnosità di Voyager Dieu non conosceva limiti. Lavorando abilmente i suoi propulsori per oscillare mentre sfrecciava e impiegando tecniche di esposizione prolungata, la navicella riuscì a catturare e trasmettere alla Terra alcune delle immagini più vicine e affascinanti mai scattate di Nettuno. Un paio di ore prima che Voyager Dieu sorvolasse Nettuno, catturò un'immagine incredibilmente dettagliata. In essa, gli scienziati ebbero una visione ravvicinata di alcune caratteristiche interessanti nell'alta atmosfera del pianeta, lunghe nuvole sottili che assomigliano ai cirri che si vedono sulla Terra. Non sono fatte di vapore acqueo come le nuvole terrestri. Queste nuvole sono formate da metano congelato, conferendo loro un aspetto surreale. Immaginate queste formazioni nuvolose che si estendono per migliaia di chilometri correndo parallele all'equatore di Nettuno. Non sono solo alcune piccole nuvole. Ogni striscia misura tra 50 e 200 chilometri di larghezza. Queste nuvole sono così alte che proiettano ombre sulla strato nebbioso circa 50 chilometri più in basso. Ancora più sorprendente è che, sebbene Voyager Dieu avesse già controllato tutti gli altri giganti gassosi prima di Nettuno, fu solo su Nettuno che si ottenne la nostra prima visione di queste elusive ombre nuvolose, come dimostrato dall'immagine granulosa catturata. Queste nuvole di alta quota sono come ospiti fugaci nell'atmosfera di Nettuno, sempre in movimento e cambiando forma. Osservazioni recenti dal telescopio spaziale Hubble hanno rivelato che queste nuvole possono formarsi e scomparire in un batter d'occhio, mostrando la natura dinamica dei modelli meteorologici di Nettuno. Quando questa immagine fu catturata, venti forti stavano vorticosamente attorno al gigante ghiacciato, alcuni soffiando a una velocità di 2100 chilometri all'ora. Questo è tre volte più veloce dei venti su Giove e quasi nove volte più veloce di quelli sulla Terra. Voyager 2 rivelò che Nettuno sperimenta alcuni dei climi più estremi del sistema solare e, quando la navicella passò, incontrò un esempio sorprendente di questo evento. Questa immagine è la vista più ravvicinata mai catturata della furiosa tempesta conosciuta come la Grande Macchia Scura, un grande ciclone ovale simile alla Grande Macchia Rossa di Giove. Questo immenso sistema meteorologico era all'incirca delle dimensioni dell'intera Terra. Ciò che è affascinante in questa immagine è che il centro della tempesta sembra essere relativamente privo di nuvole, formando un vasto vuoto scuro che taglia attraverso l'atmosfera di Nettuno. Nettuno è un incredibile gigante ghiacciato, circa quattro volte più largo della Terra. Il suo raggio è di circa 15.300 miglia e ha un volume enorme di 15 trilioni di miglia cubiche. Per metterlo in prospettiva, Nettuno è 58 volte più grande in volume della Terra. Questo affascinante pianeta è composto principalmente di acqua, metano e ammoniaca. A differenza della Terra, Nettuno non ha una superficie solida. Invece, la sua spessa atmosfera si estende in profondità nel pianeta, raggiungendo un mantello fatto di ghiaccio di metano e ammoniaca, circondando un nucleo roccioso. Curiosamente, gli scienziati pensano che Nettuno possa persino avere un oceano supercaldo nascosto all'interno. Nettuno nonostante il suo nome e il suo aspetto esteriore ghiacciato, le condizioni all'interno di Nettuno sono tutt'altro che fredde. Ma come può un pianeta mantenere un oceano del genere quando è così lontano dal Sole? La luce solare impiega ben quattro ore per raggiungere la superficie enorme di Nettuno. Nettuno è incredibilmente freddo, con una temperatura atmosferica media di meno 360 gradi Fahrenheit, rendendolo uno dei luoghi più freddi del sistema solare. Curiosamente, la maggior parte di Nettuno si è raffreddata tra il 2003 e il 2018, anche se c'è stato un certo riscaldamento vicino al Polo Sud dal 2018 al 2020, probabilmente a causa di cambiamenti stagionali nella chimica dell'atmosfera. Il mistero di come potrebbe formarsi un oceano all'interno di questo gigante ghiacciato rimane irrisolto. Tuttavia, gli scienziati hanno alcune teorie. Un'idea è che il riscaldamento interno, causato dalla compressione gravitazionale o dalle interazioni tra Nettuno e la sua luna più grande, Tritone, potrebbe svolgere un ruolo. Tuttavia, non tutti i ricercatori sono d'accordo. Ad esempio, gli scienziati Sloan Viktorovich e Andrew Ingersoll sostengono che le possibilità che si formino oceani su Nettuno a causa del suo calore interno siano piuttosto scarse, stimandole solo al 15% in questo momento. I loro calcoli suggeriscono che potrebbero volerci un miliardo di anni, perché la probabilità di un tale oceano aumenti al 40%, supponendo che il gigante continui a raffreddarsi nel tempo. Una teoria interessante per l'immensa energia interna di Nettuno è che questa inclinazione significa che Nettuno sperimenta stagioni molto simili a quelle della Terra, ma con una differenza. Ogni stagione su Nettuno dura circa 40 anni. Per mettere le cose in prospettiva, un anno su Nettuno equivale a 165 anni terrestri, ma un giorno su Nettuno dura solo 16 ore. Questa rapida rotazione genera venti estremamente forti. L'atmosfera di Nettuno è composta principalmente da idrogeno, che costituisce l'80%, con l'elio che rappresenta il 19% e una piccola frazione, circa l'1%, di altri gas, incluso il metano. Il colore blu brillante di Nettuno è il risultato delle nubi di metano nell'alta atmosfera, che assorbono la luce rossa e riflettono la luce blu. Il metano svolge un ruolo significativo nella formazione delle atmosfere di Nettuno e Urano. Nonostante siano i pianeti più lontani dal Sole nel nostro sistema solare, questi giganti di ghiaccio ricevono ancora una quantità significativa di radiazione solare, sebbene molto meno intensa rispetto a quella che ricevono i pianeti interni come la Terra. La vivida colorazione blu di Nettuno ha affascinato gli astronomi per secoli, ma i meccanismi esatti dietro il suo colore accattivante continuano a interessare gli scienziati. Un aspetto affascinante è la presenza di nubi ad alta quota, composte principalmente da cristalli di ghiaccio di metano. Queste nubi disperdono la luce solare in un modo che accentua la colorazione blu, simile a come l'atmosfera terrestre, disperde la luce solare per creare cieli azzurri. Inoltre, l'atmosfera dinamica di Nettuno presenta una moltitudine di caratteristiche, tra cui tempeste massicce e venti potenti. D'altra parte, Urano presenta un'estetica diversa, con il suo colore blu pallido attenuato. L'inclinazione unica di questo pianeta, dove il suo asse è quasi parallelo al suo piano orbitale, comporta variazioni stagionali estreme. Durante i suoi lunghi inverni polari, Urano sperimenta periodi prolungati di oscurità che ostacolano la formazione di nubi di metano ad alta quota che contribuiscono alla sua colorazione generale. Oltre al metano, le atmosfere di entrambi i pianeti contengono tracce di altri gas, tra cui idrogeno, elio e ammoniaca. Questi gas, insieme alla complessa interazione tra temperatura, pressione e dinamica atmosferica, creano un ambiente complesso e dinamico degno di esplorazione scientifica. Nettuno nasconde molti misteri nelle sue profondità agghiacciate. La sua intensa colorazione blu, derivata dal metano nella sua atmosfera, aggiunge al suo fascino. Ma oltre al suo tono accattivante, si trova un mondo di estremi. Le tempeste che infuriano sulla superficie di Nettuno non sono semplici tempeste. Sono tempeste colossali, alcune delle quali si estendono per migliaia di chilometri. Queste perturbazioni atmosferiche, caratterizzate da macchie scure e bianche, sono il risultato della rapida rotazione di Nettuno, che completa un giorno in meno di 16 ore. Questa rotazione rapida genera correnti d'aria intense, rendendo Nettuno il pianeta più ventoso del nostro sistema solare. Il famoso Grande Punto Nero, scoperto dalla sonda Voyager 2, è stato una scoperta monumentale. Questo vortice in rotazione, simile a un ciclone gigantesco, ruotava a velocità vertiginosa, più veloce di qualsiasi tempesta sulla Terra. La sua scomparsa, osservata dal telescopio spaziale Hubble, ha rivelato la natura transitoria dei sistemi meteorologici di Nettuno. Inoltre, la magnetosfera di Nettuno, una regione dello spazio influenzata dal suo campo magnetico, è notevolmente inclinata rispetto all'asse di rotazione del pianeta. Questo allineamento insolito crea interazioni complesse con il vento solare, risultando in aurore che danzano attraverso l'atmosfera del pianeta. Nel 2018 Hubble ha catturato la formazione di una nuova tempesta su Nettuno, simile a un evento analogo rilevato quasi tre decadi prima nel 1989. Queste tempeste in rotazione, nascoste in profondità nell'atmosfera del pianeta, rimangono misteriose per i ricercatori nonostante anni di studio. Ciò che rende queste tempeste particolarmente affascinanti è la loro evoluzione graduale nel tempo. A differenza delle tempeste fugaci che si osservano sulla Terra, questi giganti atmosferici impiegano anni a svilupparsi, suggerendo un processo complesso e a lungo termine in atto sotto i cieli turbolenti di Nettuno. Ma la trama si complica quando la nuova tempesta del 2018 intraprende un viaggio inaspettato. Inizialmente, deviando verso sud, sembrava destinata a svanire nell'oscurità. Tuttavia, con grande sorpresa degli scienziati, ha cambiato bruscamente direzione e ha iniziato il suo viaggio verso nord, sfidando le aspettative convenzionali sui modelli meteorologici planetari. Per aumentare l'interesse, un vortice più piccolo sembrava staccarsi dalla tempesta principale. I ricercatori della NASA ritengono che questo piccolo vortice potrebbe giocare un ruolo cruciale nella frammentazione della tempesta più grande, un fenomeno mai osservato prima nell'atmosfera di Nettuno. Inoltre, la presenza di nuvole di metano luminose, conosciute come nuvole scooter, all'interno di queste tempeste aggiunge un ulteriore strato di complessità. Queste nuvole in rapido movimento, spinte da forze ancora non completamente comprese, suggeriscono dinamiche atmosferiche complesse che si verificano in profondità nell'involucro gassoso di Nettuno. Nettuno, come i suoi omologhi giganti gassosi, possiede una caratteristica affascinante, un sistema di anelli. Questi anelli sono stati catturati in dettagli sorprendenti dal telescopio spaziale James Webb nel 2022, rivelando uno spettacolo non visto da più di tre decadi dall'ultima istantanea della Voyager 2. L'immagine ha svelato non solo gli anelli di Nettuno, ma anche i suoi satelliti accompagnatori, dipingendo un ritratto di grandezza glaciale nella vastità dello spazio. All'interno di questa scatola di gioielli cosmici, cinque anelli distinti orbitano attorno a Nettuno, ognuno dei quali porta il nome di un astronomo prominente, i cui contributi hanno plasmato la nostra comprensione del pianeta lontano. L'anello più vicino e più diffuso, noto come Hall, si estende per ben 26.000 miglia, con una larghezza radiale di 1240 miglia. Composto prevalentemente da particelle di polvere, scintilla debolmente, incarnando la bellezza eterea del Regno Celeste. Successivamente c'è Leverrier, che emana un bagliore più brillante, ma macchiato da una leggera incoerenza nelle sue misure, estendendosi per una larghezza di poco più di 62 miglia. Tuttavia, l'anello Lassel si prende la scena con la sua larghezza espansiva di 2485 miglia, oscurando i suoi colleghi. Nonostante la sua grandezza, il suo contenuto di polvere è relativamente scarso, oscillando tra il 20 e il 40%, conferendogli un'attrattiva pristina. Arago, il quarto anello, è una sfida da individuare, nascosto sui bordi dell'anello Lassel. Il suo piccolo raggio di 35.540 miglia lo rende quasi impercettibile. Infine, Adams, il più stretto degli anelli, orbita a una distanza di circa 39.724 miglia, con una larghezza di appena 35 chilometri. Ciò che rende veramente affascinante questo sistema di anelli, sono i suoi archi. Questi archi sono bande brillanti e misteriose di polvere che circondano il bordo dell'anello, creando uno spettacolo ipnotizzante. Ognuno di questi archi ha un nome unico, libertà, fratellanza, coraggio e uguaglianza. Questi nomi riflettono la natura interessante della loro esistenza. Curiosamente, questi archi non sono statici, sono dinamici. Fratellanza e uguaglianza, in particolare, scambiano costantemente materiale e cambiano di dimensioni, rendendoli ancora più affascinanti per gli scienziati. La ragione della formazione di questi archi rimane un mistero. Tuttavia, il ricercatore Mettai de Peter suggerisce che potrebbero essersi formati a causa del collasso di un compagno genitore o di un altro oggetto all'interno del limite di Roche, che è la distanza oltre la quale un corpo celeste, a causa delle forze di marea, si disintegrerà perché le forze gravitazionali di un secondo corpo superano le proprie. Aggiungendo al mistero del sistema di anelli di Nettuno, il telescopio spaziale James Webb ha anche catturato immagini di 7 delle 14 lune di Nettuno. Le lune di Nettuno sono categorizzate in gruppi regolari e irregolari. Il telescopio Webb è riuscito a fotografare 6 delle lune interne regolari. Alcune di queste lune, come Despina e Galatea, giocano ruoli cruciali nel mantenimento degli anelli di Nettuno agendo come pastori, guidando e modellando la polvere attorno a loro. Despina e Galatea, in particolare, hanno orbite affascinanti che influenzano la struttura degli anelli. Le loro forze gravitazionali aiutano a contenere le particelle dell'anello, impedendo loro di disperdersi e mantenendo i bordi netti degli anelli. Il ruolo di pastore di queste lune è cruciale per mantenere l'aspetto stretto e ben definito degli anelli di Nettuno. Oltre a Despina e Galatea, il telescopio Webb ha anche osservato Tritone, la luna più grande di Nettuno, che è unica perché orbita il pianeta in una direzione opposta a quella della rotazione di Nettuno. Si pensa che Tritone sia un oggetto catturato dalla fascia di Kuiper, rendendolo un oggetto di immenso interesse scientifico. Ha geyser che spruzzano gas di azoto, creando un'atmosfera sottile e suggerendo processi geologici attivi. Uno degli elementi più affascinanti nella foto di Webb è l'aspetto di Tritone, un satellite lontano e brillante. Tritone brilla come una stella nell'immagine perché emette molta più luce rispetto al suo pianeta ospite, Nettuno. Questa luminosità è dovuta al fatto che Tritone è quasi completamente ricoperto di ghiaccio di azoto, che riflette circa il 70% della luce solare che riceve. Tritone detiene il titolo di luna più grande di Nettuno, superando anche Plutone in dimensioni. Il suo diametro si estende per ben 1680 miglia, rappresentando un sorprendente 99,7% di tutta la massa posseduta dalle lune di Nettuno combinate. Ciò che distingue ulteriormente Tritone è il suo comportamento gelido. È classificato come l'entità geologicamente attiva più fredda del sistema solare, con temperature superficiali che scendono a uno gelido meno 391 gradi Fahrenheit. Questo terreno ghiacciato, che funge da specchio per la luce solare, contribuisce alle sue condizioni glaciali. Come altre lune intorno ai giganti gassosi, Tritone sperimenta il blocco mareale, il che significa che solo una faccia è perpetuamente rivolta verso il suo pianeta ospite. In sostanza, Tritone emerge come una meraviglia celeste, non solo per le sue dimensioni e l'attrattiva gelida, ma anche per la sua attività geologica e il freddo cosmico, rendendolo un mondo enigmatico degno di esplorazione e ammirazione. Tritone è un vero anticonformista nel nostro sistema solare. A differenza della maggior parte dei satelliti segue il ritmo del proprio tamburo con un'orbita retrograda. Ciò significa che viaggia nella direzione opposta a quella del suo pianeta madre, Nettuno. Immagina che mentre altre lune girano docilmente intorno ai loro pianeti in una direzione, Tritone si ribella e prende la strada panoramica. Ma perché Tritone sfida la norma? Si crede che Tritone non fosse originariamente di qui. Gli scienziati pensano che provenga dalla fascia di Kuiper, una regione lontana piena di resti ghiacciati dei primi giorni del nostro sistema solare. A un certo punto Nettuno, essendo il magnete cosmico che è, ha catturato Tritone nel suo abbraccio gravitazionale. Mentre Tritone saliva a bordo di Nettuno, ha frenato, rallentando per evitare una collisione frontale. Questa danza poco convenzionale ha portato Tritone a stabilirsi nella sua orbita peculiare, dove i suoi poli e l'equatore si alternano per far fronte al Sole. Immagina un gioco cosmico di nascondino con la luce solare. Ma lo spirito ribelle di Tritone porta delle conseguenze. Il suo percorso potrebbe causare problemi alle altre lune di Nettuno, poiché la traiettoria di Tritone potrebbe portare a collisioni cosmiche. A differenza di Giove, con la sua affollata comitiva di lune, Nettuno ha solo un pugno di compagni. L'arrivo di Tritone ha sconvolto le cose, evidenziando il contrasto netto tra i due giganti gassosi. Intorno a Nettuno c'è una danza inquietante di lune, ma Tritone si distingue tra loro. Non è una luna qualsiasi, è un vagabondo catturato dalla fascia di Kuiper, una vasta regione al di là di Nettuno, popolata da oggetti ghiacciati. Immagina Tritone come un nomade cosmico, attirato nell'orbita di Nettuno dalla sua immensa forza gravitazionale, quando Voyager 2 è passata nel 1989, ha catturato istantanee della superficie di Tritone, rivelando un paesaggio come nessun altro. Le immagini hanno svelato un mosaico di pianure ghiacciate, imponenti scogliere e misteriose strisce scure. Ma ciò che ha catturato l'attenzione degli scienziati sono state le imponenti colonne che eruttavano dalla sua superficie, suggerendo forze invisibili in gioco. Analizzando i crateri sparsi sul terreno di Tritone, gli scienziati hanno scoperto indizi sul suo passato tumultuoso. Alcuni crateri sembravano notevolmente freschi, suggerendo impatti recenti, mentre altri mostrano segni di erosione, suggerendo una superficie dinamica rimodellata da geyser di ghiaccio e criovulcanismo. Ma la scoperta più intrigante doveva ancora venire. Sotto la facciata ghiacciata di Tritone, gli scienziati sospettano un oceano nascosto, forse mantenuto liquido dal riscaldamento mareale generato dai tiraggi gravitazionali di Nettuno e dall'orbita eccentrica di Tritone stesso. Se è vero, questo oceano sottosuperficiale potrebbe ospitare vita aliena, rendendo Tritone un obiettivo privilegiato per future esplorazioni. E poi ci sono i geyser, getti imponenti di materiale ghiacciato che esplodono nello spazio. Questi geyser non solo suggeriscono una geologia attiva su Tritone, ma indicano anche un serbatoio sottosuperficiale di composti volatili in attesa di esplodere. Nonostante le sue temperature gelide, Tritone è un mondo di complessità intriganti. Profondamente sotto la sua superficie ghiacciata esiste un serbatoio nascosto di ammoniaca, un composto spesso associato ai prodotti per la pulizia sulla Terra, ma vitale per la dinamica peculiare dell'oceano sottosuperficiale di Tritone. Questa ammoniaca agisce come una sorta di antigelo, rallentando il processo di congelamento dell'acqua e creando potenzialmente condizioni abitabili per la vita, sebbene in un contesto molto diverso dal nostro. L'interazione della luce solare sulla superficie di Tritone complica ulteriormente la sua facciata ghiacciata. Quando i raggi lontani del Sole penetrano la sua atmosfera sottile, scatenano una danza delicata di compressione molecolare. L'azoto, il componente dominante dell'atmosfera di Tritone, subisce una trasformazione curiosa, diventando pressurizzato sotto la crosta ghiacciata. Infine, questa pressione accumulata viene liberata in magnifici geyser che eruttano nel vuoto dello spazio, uno spettacolo non visto su nessun'altra luna del nostro sistema solare. Nonostante questi fenomeni affascinanti, decifrare la vera natura di Tritone rimane una sfida avvincente. Il suo potenziale come mondo oceanico, con mari nascosti sotto il suo guscio ghiacciato, accende l'immaginazione di scienziati e appassionati dello spazio. Tuttavia, confermare questa ipotesi richiede ulteriori esplorazioni e osservazioni, compiti resi ancora più ardui dalla posizione remota di Tritone e dalle sfide tecniche dell'esplorazione spaziale. Inoltre, la sottile atmosfera di azoto di Tritone, prodotto del riscaldamento solare, aggiunge un ulteriore strato al suo carattere misterioso. Questo fragile velo di gas suggerisce l'interazione complessa tra la superficie di Tritone e il Sole lontano, modellando la sua dinamica atmosferica in modi ancora non completamente compresi. Esplorare i misteri delle origini di Tritone svela una narrativa affascinante di migrazione cosmica e balletto gravitazionale. Tritone si distingue non solo per la sua dimensione, ma anche per la sua peculiare orbita retrograda, contraria al movimento in avanti tipico delle lune nel nostro sistema solare. Questa traiettoria insolita suggerisce un passato tumultuoso di Tritone come vagabondo dei freddi regni della cintura di Kuiper. All'interno della vasta estensione ghiacciata della cintura di Kuiper si trova una collezione di meraviglie celesti. Tra di esse ci sono non solo pianeti nani come Plutone, ma anche oggetti enigmatici, conosciuti come oggetti transnettuniani. Questi corpi ghiacciati, che variano da pochi chilometri a centinaia di chilometri di diametro, contengono indizi sulla formazione e l'evoluzione precoce del sistema solare. Una delle caratteristiche più notevoli della cintura di Kuiper è la sua risonanza con Nettuno. La risonanza si verifica quando le interazioni gravitazionali tra Nettuno e gli oggetti nella cintura li fanno orbitare in una danza sincronizzata. Plutone, ad esempio, completa due orbite attorno al Sole per ogni tre orbite che compie Nettuno. Questa relazione armoniosa suggerisce un equilibrio delicato delle forze gravitazionali che è persistito per miliardi di anni. Inoltre, la composizione della cintura di Kuiper fornisce un'idea delle condizioni primordiali del sistema solare. Ricca di composti volatili come metano, ammoniaca e ghiaccio d'acqua, questi corpi ghiacciati sono reliquie dell'infanzia del sistema solare, conservando un registro congelato del suo passato antico. Assemblando questi puzzle celesti, gli scienziati speculano sul viaggio di Nettuno attraverso l'universo. Il concetto di migrazione planetaria propone che Nettuno, insieme ai suoi lontani fratelli Urano e ai giganti gassosi Giove e Saturno, possa aver subito movimenti significativi durante gli anni formativi del sistema solare. Tali migrazioni potrebbero essere state innescate da interazioni gravitazionali con altri pianeti o stelle in transito, rimodellando l'architettura del nostro vicinato cosmico nel corso di vasti periodi. Mentre il gigante di ghiaccio effettuava il suo viaggio migratorio, ha giocato un ruolo cruciale nel mantenere numerosi oggetti celesti all'interno della cintura di Kuiper. Senza questa migrazione, le forze gravitazionali in gioco avrebbero potuto lanciare molti di questi oggetti fuori dal sistema solare, modificando potenzialmente la dinamica del nostro vicinato cosmico. Interessante, questa migrazione potrebbe anche aver influenzato le orbite di altri pianeti, incluso lo stesso Nettuno, suggerendo la danza complessa dei corpi celesti nel nostro sistema solare. Nettuno continua a stupire gli astronomi con i suoi misteri. Sotto la sua superficie serena si cela un mondo avvolto nel segreto, con domande persistenti sulla sua composizione interna e sui meccanismi alla base della formazione dei giganti gassosi come lui. Gli scienziati sono ansiosi di addentrarsi ulteriormente nelle profondità di Nettuno, per svelare i segreti nascosti nel suo nucleo ghiacciato, sperando di scoprire indizi sugli origini e sull'evoluzione di questi mondi lontani. Le future spedizioni scientifiche promettono di svelare la chimica e la dinamica complessa dei giganti di ghiaccio, gettando luce sul loro ruolo nella grande varietà dell'universo. Queste missioni non solo approfondiranno la nostra comprensione di Nettuno, ma forniranno anche intuizioni preziose sui processi più ampi che modellano i sistemi planetari sia all'interno che al di fuori del nostro. Con ogni scoperta, le persone si avvicinano sempre di più a svelare i misteri cosmici che hanno affascinato l'umanità per generazioni, suscitando curiosità e ampliando i confini della conoscenza umana. Quali sono i tuoi pensieri su questa scoperta sconvolgente delle immagini più vicine mai scattate di Nettuno? Condividi i tuoi pensieri con noi nella sezione commenti qui sotto. Grazie per aver guardato un altro episodio di Voyager. Mentre sei ancora qui, assicurati di fare clic sul video sullo schermo per ulteriori contenuti di qualità.